Statalizzare questa scuola porterebbe a perdere il contatto che questa scuola ha con tutto il paese e con tutta la comunità. Con noi temiamo di spersonalizzare la scuola come l'abbiamo vissuta fino ad adesso, come l'abbiamo avuta fino ad adesso. Il territorio è tutt'uno con la scuola, ora il vedere passare la scuola o anche a livello statale è come vederla chiudere. Nelle parole della gente di Santo Moro, il piccolo paese sulla prima collina delle valli delle Buri, si avverte quello che la scuola, lo scoiattolo, rappresenta per l'intera comunità. Un rapporto che è frutto di quanto fatto sin dagli anni 70 e che con lo scomparire dei servizi dalle frazioni, oggi si teme, possa essere compromesso per sempre. Il possibile passaggio della scuola dal comune allo stato di cui si sta parlando in questo periodo è infatti avvertito come un pericolo dai genitori e delle persone del paese che temono di veder compromesso tutto quello che è stato costruito nel tempo. Un rapporto fatto di continui scambi, amicizie e partecipazione che alimenta quotidianamente la vita della scuola e del paese stesso. Un tesoro che in primo luogo i residenti non vogliono perdere e così domenica 14 gennaio se ne parlerà in una riunione alle 18 alla Casa del Popolo in occasione della quale sarà lanciata una petizione per chiedere al comune di non cedere allo Stato la scuola. È un colpo a tutta la comunità perché questa scuola è il cuore della nostra comunità. Io parlo a nome del centro sociale. Con il centro sociale facciamo tante attività con i bambini del paese e alcune attività specifiche con i bambini della scuola materna che vengono da noi la mattina e fanno vari lavori. Questo per esempio diventerebbe più difficile. Diventerebbe più difficile ogni collaborazione fuori dall'orario scolastico perché lo Stato ha le sue regole che ovviamente non possono tenere conto di piccole realtà. Si sa che spesso le persone scappano dalle periferie per andare in città. Qui a Santomoro è il contrario perché ci sono tantissimi bambini che vengono anche dalla città che chiedono di iscriversi qui a Santomoro proprio perché hanno capito cosa c'è, qual è il valore aggiunto di questo asilo. Giochiamo con mano il territorio qui, diamo la possibilità ai bambini di andare nelle aie, di andare nel bosco, di camminare nel fiume. Sono tutte attività che purtroppo perderemmo con un passaggio allo Stato. Io mi auguro che invece di fare soltanto gli amministratori facciano i politici, abbino il che di capire cosa vuol dire una scuola in un paese.